e così la gallina e la sindaca vissero per sempre felice e contente oh che bella storia adesso è ora di fare la nanna vuoi leggerla un'altra volta va bene ma poi si dorme c'era una volta una gallina che viveva in una fattoria solitaria senza un municipio e neanche un sindaco oh mamma che cosa potrebbe essere oh che baccano forse si è fermato eccolo di nuovo meglio chiamare i popatron ci sono gruppi di stelle chiamati costellazioni hanno la forma di animali e persone oh forte wow sindaco godway che succede rider c'è qualcosa che salta sul mio tetto sembrerebbe qualcosa di grosso dovreste venire a controllare e farlo smettere spaventa la mia povera cicaletta non si preoccupi sindaco goodway arriviamo non c'è rumore troppo misterioso per un cucciolo coraggioso tutti al quartier generale pronti all'azione signore grazie per essere venuti abbiamo un mistero per le zampe c'è qualcosa che fa strani rumori sul tetto del municipio chissà che cosa può essere per questa missione scelgo l'aiuto di chase usa le tue doti di detective per scoprire che cosa provoca il rumore questo è un caso per moto chase e poi ho bisogno di wild cat usa le tue abilità con la moto per saltare sul municipio e far scappare tutto ciò che non dovrebbe trovarsi lì questo gatto è pronto per un giro in moto molto bene al lavoro poppa troll grazie al cielo siete qui siamo venute fuori a controllare i rumori ma non vediamo più nulla per ora non c'è niente che non vada aspetta hai sentito sembrava un motore visto che numero ma allora il mistero è risolto è la banda bau bau stanno usando i tetti come se fossero una pista per le moto oh no quei cuccioli monelli sono tornati adesso vado a dirgli di smettere di fare questo baccano sindaco goodway stia attenta sentite banda bau bau dovrei già essere a letto e anche la mia gallina smettete di saltare sul nostro tetto questo è quello che chiamo un bel danno a due ruote la mia campana resista rete ora può lasciarsi andare sindaco la mia rete la salverà grazie chase il tempo di giocare è finito per la banda bau bau no super iper velocità mossa della ruota epica è wild cat non ho paura di un vecchio gattaccio e di un gatto che sa fare questo invece ok ok ce ne andiamo non perché ci faccia paura un gatto ma perché c'è una pista migliore laggiù da qualche parte forza andiamocene ora che la banda bau bau se n'è andata dobbiamo rimettere la campana sulla torre so chi fa il caso nostro ciao rider ciao sky abbiamo bisogno di te al municipio per rimettere la campana nella torre per fortuna sa volare grazie per essere qui non c'è di che rider è a lei che serve un passaggio ecco fatto come nuova grazie per aver fatto scappare la banda bau bau e per aver riparato la campana si figuri sindaco goodway se un branco dei teppisti usa il suo tetto come una rampa siamo a sua disposizione accidenti è davvero tardissimo cicaletta e va bene se insisti abbiamo tempo per un'altra storia no Ahahahah!